Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video di Statistica. In questa lezione andremo a parlare degli errori di prima e di seconda specie. Quando stiamo effettuando un test di ipotesi si contrappongono due ipotesi. Un'ipotesi nulla, ad esempio, che sostiene che un certo parametro, come la media, la varianza, una proporzione, un beta, assuma un certo valore, ad esempio sia uguale a un certo valore ipotizzato, in contrapposizione ad un'ipotesi alternativa. Ipotesi alternativa che potrebbe essere monolaterale destra, monolaterale sinistra, bilaterale, e poi c'è un certo livello di significatività del test, che sarebbe alfa, che va insomma a ricoprire la zona di rifiuto. Di questa cosa ne abbiamo parlato abbastanza nelle scorse lezioni, quindi spero che abbiate delle nozioni per poter comprendere quello che stiamo dicendo adesso. E quindi adesso prendiamo a riferimento un'ipotesi su una media, ma vale per qualsiasi altro parametro che sia monolaterale destro. Ma non per forza deve essere monolaterale destro. La stessa cosa che diremo in questa sede varrà per il monolaterale sinistro e per la bilaterale. Comunque, quando stiamo facendo un'ipotesi, si contrappongono due ipotesi. L'ipotesi nulla all'ipotesi alternativa, come ad esempio qui stiamo ipotizzando la media è uguale o è minore o uguale a mu zero, che sarà l'ipotesi nulla, quella che è comunemente ritenuta, contro un'ipotesi alternativa che c'è qualcuno che sta sostenendo che vuole cambiare una certa situazione, insomma una certa credenza consolidata. A questo punto il discorso è, noi facciamo il test d'ipotesi, poi sarà il dato campionario che o, oppure la sua standardizzazione, a seconda che stiamo ragionando sui dati standardizzati, che si troverà all'interno della zona di accettazione dell'ipotesi nulla, ricoperta da un'area pari ad uno meno alfa, non so se alfa fosse il 5%, sarebbe il 95%, e se questo dato campionario si trova in prossimità di quello che si sta ipotizzando a livello nullo, allora vuol dire che H0 è vera, cioè diciamo che il test ci dice che l'ipotesi nulla è da ritenersi vera. Diversamente se il dato campionario, ad esempio nel test d'ipotesi su una media, la media campionaria ricade nella zona di rifiuto dell'ipotesi nulla, allora il test ci sta dicendo che a quel livello di significatività alfa, o a livello di confidenza uno meno alfa, quell'ipotesi H0 risulta essere falsa. E' chiaro dunque, come abbiamo sempre ragionato, che qualora appunto il dato campionario ricadesse nella zona di veridicità dell'ipotesi nulla, allora l'opzione diciamo più opportuna, la decisione più opportuna, sarebbe quella di accettare l'ipotesi nulla, mentre nel caso in cui il dato campionario ricada nella zona di rifiuto di H0, la decisione più, tra virgolette, corretta, quella che dovremmo dare a quel livello di significatività, è quella di rifiutare H0. Sembrerebbe abbastanza semplice. Però qualcuno dall'assù, millenni di anni fa, quando hanno creato il mondo, ci hanno dato il libero arbitrio. Cioè nel senso che se il test ci sta dicendo che H0 è vera, noi non è che per forza dovremmo accettarla, quale ipotesi nulla e se H0 è falsa, non è che per forza dovremmo rifiutarla. Da qualche parte nella Bibbia, adesso io non voglio innescare credenze religiose e non mi interessa niente, insomma ognuno ha le sue credenze, siccome siamo in Occidente e faccio la cosa del Signore, immaginiamo che questo Signore ci abbia dato il libero arbitrio, la capacità di decidere noi stessi il nostro destino. E quindi in questo nuovo scenario, con questo libero arbitrio, potremmo dire sì, supponendo che il test ci stia dicendo che a quel livello di significatività alfa H0 è vera, noi siamo liberi di decidere cosa fare. Cioè a questo punto ci sarebbe la decisione corretta che se H0 è vera mi dice ok H0 è vera e quindi l'accetto. Oppure io potrei dire va bene il test mi ha detto che H0 è vera, però io sono libero lo stesso di non fidarmi e quindi alla fine decido, nonostante H0 sia vera per il test, di rifiutarla. Quindi la mia decisione finale è quella comunque anche se il test mi dice che H0 è vera, io la rifiuto. Questo qui è definito un errore di prima specie. Allora potremmo ragionare anche così, quando nel caso in cui H0 sia falsa, la decisione corretta, quella più corretta, sarebbe quella di rifiutare l'ipotesi nulla, proprio perché il test mi sta dicendo che il dato campionario si trova all'esterno della zona di accettazione. Invece se io mi ostino, nonostante il test mi dica che quell'ipotesi nulla è falsa, continuo ad accettare l'ipotesi nulla, cioè continuo a ritenere vero quello che si ritiene comunemente, che di solito è l'ipotesi nulla, allora diciamo che stiamo compiendo un errore di seconda specie. Quindi ricapitolando, si compie un errore di prima specie quando si rifiuta l'ipotesi nulla, nonostante questa risulti vera, si sta compiendo un errore di seconda specie quando si continua ad accettare l'ipotesi nulla, anche qualora appunto questa risulti falsa. Ora, analizziamo meglio questi casi, quindi partiamo da una situazione in cui il test ci sta dicendo che l'ipotesi nulla è vera. Qui prendiamo ad esempio il caso di un'ipotesi su una media, stiamo ad esempio, l'ipotesi nulla sostiene che la media è pari a 50 o comunque inferiore o uguale a 50 contro un'ipotesi alternativa che la media risulti essere maggiore, scusate, di 20, contro l'ipotesi alternativa che risulti essere maggiore ai 20. Supponiamo che il dato campionario, cioè la media campionaria, che è quella che decide il test, valga 21, quindi se vale 21 vuol dire che ricade all'interno della zona di accettazione dell'ipotesi nulla, che supponiamo sia fatta su un certo livello alfa, ad esempio supponiamo che questo livello alfa sia pari al 5%, adesso io sto proprio inventando i dati, ma è solo per far capire gli errori di prima e di seconda specie, quindi supponiamo che alfa vale il 5%, vuol dire che a livello del 5% riteniamo vera l'ipotesi nulla. Ora, vedete che questo dato campionario quindi ricade all'interno della zona 1-alfa, che se alfa vale il 5%, qui vuol dire che avremo una copertura del 95%. Cosa rappresenta quest'area 1-alfa? Questo qui sarebbe un po', viene definito intervallo di confidenza, cioè praticamente quando noi accettiamo l'ipotesi nulla, quando risulta vera, vuol dire che è come se avessimo una sorta di copertura del 95%, cioè la nostra probabilità di effettuare la scelta corretta è pari al 95%, abbiamo il 95% di possibilità di fare la scelta corretta accettando H0. Qui ve l'ho scritto in maniera più probabilistica, quindi il 95% è la probabilità, diciamo, di accettare H0 se H0 risulta vera. Possiamo appunto associare a questo 1-alfa una sorta di margine di successo, di senso di sicurezza. La seconda opzione invece è quando H0 è vera, quindi supponiamo sempre il caso che stiamo analizzando adesso dove il dato campionario vale 21% e si trova appunto nella zona di accettazione di H0, io ho comunque un'altra opzione, cioè quella di effettuare la scelta corretta. Ora, se noi effettuiamo questa scelta scorretta, in pratica in questa situazione la scelta corretta sarebbe quella di rifiutare l'ipotesi nulla e se noi rifiutiamo l'ipotesi nulla praticamente andiamo incontro ad un certo rischio, cioè la nostra probabilità di successo scende dal 95% al 5%, quindi questo livello alfa che è il livello di significatività può essere definito in questo modo, cioè è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa risulta essere vera, è probabilità di scegliere H1 dato H0, cioè dato di fatto che H0 sia la scelta corretta e ovviamente più il livello di alfa è piccolo più noi incorriamo in un rischio perché la probabilità di fare la scelta corretta diventa sempre più piccola quindi l'errore di primo tipo di solito è definito come il più tragico degli errori, cioè è peggiore sicuramente all'errore di secondo tipo perché il test ci sta dicendo guarda che questa ipotesi nulla è vera, poi noi decidiamo di sbattercene le scatole per non dire qualcos'altro e di rifiutarla accettando invece l'ipotesi alternativa e quindi incorriamo in un certo rischio e possiamo dire che alfa che questo livello di significatività è un pochino è la probabilità di fare la scelta corretta in questa situazione e quindi diciamo che alfa è proprio quel livello di significatività che è associato appunto ad un errore di primo tipo ora ora ovviamente sempre riportandoci in questa situazione diciamo che bisognerebbe anche comunque sempre dire c'è sempre valutare il valore del p-value perché diciamo che più il p-value è alto ricordiamo che il p-value sarebbe appunto il massimo valore di alfa per ritenere vera l'ipotesi nulla quindi quando abbiamo dei p-value molto alti allora in quel caso dovremmo essere portati ad accettare l'ipotesi nulla quando i p-value sono bassi dovremmo essere portati a rifiutare l'ipotesi nulla quindi il diciamo che il vero confronto dovrebbe comunque essere fatto sempre tenendo in considerazione del p-value e tenendo in considerazione di quanto il dato campionario si trovi effettivamente vicino al dato ipotizzato come ad esempio in questo caso cioè se il valore di p-value è veramente molto alto non mi conviene in qualche modo incappare ovvero incorrere in un errore di secondo tipo tenderò ad accettare l'ipotesi nulla se magari stiamo valutando un test su un livello alfa del 5% e il p-value vale il 5,5% certo ci possiamo sicuramente assumere la quindi l'onere di incorrere in un errore di primo tipo però comunque siccome il livello del p-value in quel caso sarebbe molto vicino al livello di alfa è come se in qualche modo il margine di errore o l'errore di primo tipo fosse meno sensibile in qualche modo quindi ricapitolando per come abbiamo detto quando nel caso in cui il test ci dice che l'ipotesi nulla è vera la decisione corretta consiste nell'accettare appunto l'ipotesi nulla e il nostro grado di protezione è dato dal livello di confidenza che è pari appunto al livello 1-alpha perché il dato campionario si trova appunto in questa zona sarebbe un errore definito come errore di prima specie rifiutare l'ipotesi nulla e in questo caso se rifiutiamo l'ipotesi nulla andiamo in qualche modo a definire il grado di rischio cioè nel senso la nostra probabilità di successo come il livello di significatività che di solito quando utilizziamo i livelli di significatività usiamo o l'1% o il 2% o il 5% o il 10% poi la gravità appunto della situazione peggiorerà cioè l'errore di prima specie peggiorerà più il livello di alfa è appunto piccolo ora questo che abbiamo visto è quando il test ci sta dicendo che l'ipotesi nulla è vera ora immaginiamo che il test ci dica che l'ipotesi nulla è falsa ovvero che il dato campionario si trovi effettivamente in una zona estrema rispetto al dato ipotizzato ad esempio nel caso monolaterale destro si potrebbe trovare quindi a destra dell'estremo destro e quindi si trova sottoposto nella zona alfa in questo caso la decisione corretta sarebbe quello di rifiutare l'ipotesi nulla se invece noi ci ostiniamo ad accettare l'ipotesi nulla nonostante il test ci evidenzi che questa è falsa allora incappiamo in un errore di seconda specie quindi entrando in merito a questo secondo caso supponendo di fare ad esempio sempre questo test su una media che contrappone un'ipotesi nulla con la media uguale a 20 oppure se preferite minore o uguale a 20 in alternativa della media che è maggiore di 20 supponendo che gli estremi siano quelli di prima quindi il dato ipotizzato è 20 il dato estremo è 22 quindi che cosa vuol dire se la nostra media campionaria dovesse essere maggiore di 22 come in questo caso vuol dire che dovremo ritenere scorretto il fatto che la media valga 20 e dovremo invece ritenere corretto che la media della popolazione rappresentativa di quel campione sia effettivamente maggiore di 20 perché il dato campionario ci sta indicando che ci troviamo al di sopra dell'estremo di validità dell'ipotesi nulla quindi l'alternativa che definiamo come la decisione corretta sarebbe quella di rifiutare l'ipotesi nulla e attenzione che rifiutare l'ipotesi nulla significa accettare l'ipotesi alternativa e cosa ci diceva l'ipotesi alternativa l'ipotesi alternativa in questo caso cioè in questo caso specifico che stiamo analizzando in maniera grossolana non entrando troppo nei conti tecnici l'ipotesi alternativa ci dice il valore della media della popolazione che rappresenta quel campione è maggiore di 20 ovvero quel campione appartiene ad una popolazione con una media più alta di 20 ma cosa significa essere più alta di 20 cioè più alta di 20 cosa vuol dire è più alta di 20 una possibile ipotesi alternativa appunto del tipo H1 la media maggiore di 20 potrebbe essere la media è uguale a 21 in effetti 21 è un valore maggiore di 20 oppure un'altra ipotesi alternativa potrebbe essere H1 primo H1 secondo H1 terzo adesso non li ho indicati così però potrebbe essere la media è pari a 22 oppure un'altra ipotesi alternativa potrebbe essere la media uguale a 23 o la media uguale a 24 o la media uguale a 25 e così via quindi quella che noi definiamo come ipotesi alternativa in realtà è come se fosse un fascio di ipotesi ad esempio qui ve ne ho riportato alcuno quindi mentre l'ipotesi nulla che si basa sul valore 20 sostiene la media è uguale a 20 ora è vero che qua è inferiore uguale però si potrebbe anche dire è uguale a 20 l'ipotesi alternativa che ci dice che la media è maggiore di 20 potrebbe presentarsi con una gaussiana specifica H1 specifica la media è uguale a 21 la media potrebbe esserci un'altra gaussiana che dice la media è uguale a 22 oppure la media è uguale a 23 oppure la media è uguale a 24 quindi quando diciamo l'ipotesi alternativa in realtà stiamo dicendo un insieme di tante possibili ipotesi di infinite possibili ipotesi dove queste infinite possibili ipotesi sono tutti valori maggiori di 20 anche la media è uguale a 20,5 è un'ipotesi alternativa 20,5 20,6 20,7 20,8 troviamo infinite ipotesi alternative ora proviamo a fissare l'attenzione su una possibile ipotesi alternativa e cerchiamo di analizzare quello che noi abbiamo fatto cioè allora quello che noi abbiamo fatto era inizialmente siamo partiti dal test d'ipotesi quindi la media è uguale oppure minore uguale a 20 in alternativa con la media maggiore di 20 come facevamo noi questo test d'ipotesi quindi partivamo dalla normale associata all'ipotesi nulla che si basava appunto sul valore 20 andavamo a stabilire il valore dell'estremo adesso qui supponiamo che l'area a destra è il 5% quindi dovevamo trovare il valore standardizzato della td student o dello z poi andando andavamo a calcolare il valore di questo estremo come valore medio più t student per lo standard error oppure più z per standard error a seconda che la varianza era nota o era ignota e calcolavamo il valore dell'estremo poi dicevamo il 95% supponendo di prendere un livello alfa del 5% il 95% di tutta l'area e supponendo un test bilaterale destro è tutta a sinistra e il 5% è tutta a destra però adesso cosa succede? succede che il nostro dato campionario risulta essere maggiore dell'estremo e quindi in questo caso verrà validata l'ipotesi alternativa ovvero si dovrà riconoscere o si tenderà a riconoscere il fatto che la media sia maggiore di 20 adesso prendiamo una specifica ipotesi alternativa quindi prendiamo quindi la decisione corretta abbiamo detto che è quella di rifiutare l'ipotesi nulla quindi dobbiamo accettare l'ipotesi alternativa e tra tutte le possibili ipotesi alternative scegliamo l'ipotesi alternativa la media è uguale a 24 io adesso ipotizzato potevo scegliere anche la media uguale a 21 la media uguale a 22 eccetera eccetera quindi adesso noi su questa specifica ipotesi alternativa che h1 mu è uguale a 24 che è una delle tante ipotesi alternative che possiamo avere costruiamo la nostra gaussiana ovviamente le caratteristiche di questa gaussiana rimangono in tutto e per tutto identiche a quella precedente cioè lo standard error cioè il sigma su radice di n dell'ipotesi nulla è uguale allo standard error dell'ipotesi alternativa l'unica cosa è come se ci fosse una traslazione verso destra sull'asse delle medie di 4 unità adesso se noi prendiamo in considerazione questa gaussiana cioè la gaussiana relativa alla specifica ipotesi nulla mu uguale a 24 e prendiamo lo stesso valore di riferimento dell'ipotesi nulla cioè dove appunto a destra c'era alfa e a sinistra c'era 1 meno alfa adesso però è come se noi questa soglia di riferimento cioè questo valore 22 in questa situazione specifica andiamo a valutare andiamo a valutare l'area che si trova a destra di questo valore estremo che però era l'estremo rispetto all'ipotesi nulla quindi fissato il livello alfa andiamo a valutare l'area che si trova a destra di questo valore e l'area che si trova a sinistra di questo valore ma sulla gaussiana h1 quella riferita all'ipotesi che sostiene che la media è uguale a 24 in particolare chiameremo beta l'area che in questo caso si trova a sinistra perché ora in realtà non è che si deve trovare a sinistra deve far parte della zona di accettazione di h0 mentre definiamo l'area sempre sulla nuova ipotesi nulla che si trova al di fuori della zona di accettazione di h0 ma sotto la nuova gaussiana la definiamo 1-beta cioè detto in parole povere se sulla gaussiana relativa ad h0 troviamo 1-alfa da un lato che è la zona di accettazione dell'ipotesi nulla e alfa dall'altro che è la zona di rifiuto dell'ipotesi nulla sulla nuova gaussiana h1 troveremo la distinzione tra beta che si trova nella zona di validità di h0 e 1-beta che si trova nella zona di validità di h1 ora questo 1-beta viene chiamato potenza del test questo beta viene chiamata la probabilità di errore di secondo tipo ovvero riepilogando se avevamo questa ipotesi nulla il dato campionario si trova all'esterno ad esempio di questo estremo vuol dire che la decisione corretta sarebbe quello di rifiutare h0 ovvero accettare h1 quando noi analizziamo una specifica ipotesi h1 diciamo ok se noi accettiamo h1 una volta che abbiamo calcolato beta e 1-beta qual è il nostro grado di protezione qual è la probabilità di far giusto accettando h1 e accettando quella specifica ipotesi h1 è pari a 1-beta quindi 1-beta è come fosse la probabilità di fare la scelta corretta o di far giusto accettando h1 quando h1 risulta vera praticamente mentre dall'altro lato abbiamo beta che è collegata alla probabilità dell'errore di secondo tipo ora quindi ancora se h0 risulta falsa perché il dato campionario esce dalla zona di accettazione di h0 allora la decisione corretta è quella di rifiutare h0 ora se rifiutare h0 significa accettare h1 accettare h1 si dice ok analizziamo uno specifico h1 ad esempio media uguale a 24 e calcoliamo l'area che si trova a destra a sinistra rispetto all'estremo fissato per h0 ok la decisione corretta quindi è quella di accettare h1 ma se noi accettiamo questa specifica h1 con quale grado di sicurezza siamo protetti con livello chiamato livello di potenza del test che appunto è la probabilità di fare la scelta corretta quando accettiamo h1 e quella specifica h1 e qui ad esempio vi ho scritto appunto la scrittura un po' più come dire matematica quindi 1 meno beta ovvero la potenza del test si definisce come la probabilità di accettare h1 in particolare l'ipotesi specifica mu uguale a 24 quando l'ipotesi nulla è falsa vi faccio notare che il valore di 1 meno beta può variare a seconda di quale specifica ipotesi h1 prendiamo perché se noi prendessimo h1 23 vedete che 1 meno beta tenderà a diminuire e beta invece tenderà a aumentare se ci spostassimo ancora non lo so a sinistra vedete che ancora una volta 1 meno beta subisce una modifica e beta tenderà ancora a crescere e così via mentre beta abbiamo detto che sarebbe l'area relativa all'errore di seconda specie oppure secondo tipo ovvero se h0 risulta falsa perché il dato campionario ricade al di fuori della zona di accettazione h0 ovvero quella segnata dal livello alfa allora la decisione corretta avevamo detto è quella di rifiutare h0 però supponete che io sia convinto per qualche ragione che h0 sia vera e anche se il test mi ha detto che quel dato campionario di quel campione specifico si trova in una zona in cui noi dovremo tendenzialmente rifiutare l'ipotesi nulla noi continuiamo ad accettare cioè noi continuiamo ad accettare l'ipotesi nulla nonostante questa dal test risulti falsa sarebbe una decisione scorretta e qual è la nostra probabilità di sopravvivere cioè qual è la nostra probabilità che noi continuiamo ad accettare h0 che il test ci ha detto guarda che con il livello alfa h0 è falsa però noi continuiamo ad accettarlo possiamo calcolare la nostra probabilità di successo in riferimento sempre ad una specifica h1 quindi se noi prendiamo che il riferimento all'ipotesi specifica h1 media uguale a 24 perché ricordiamo che vince l'ipotesi h1 e di h1 ce ne sono tante quindi se ne prendiamo una nello specifico dove analizziamo la media uguale a 24 dice ok io sto continuando ad accettare l'ipotesi nulla qual è la probabilità di fare la scelta corretta continuando ad accettare l'ipotesi nulla contro un'ipotesi alternativa specifica la chiamiamo beta e beta è la zona che si trova in questo caso a sinistra ovvero appartenente alla zona di accettazione di h0 però calcolata sulla normale di una possibile ipotesi alternativa h1 possiamo anche definire beta come la probabilità di compiere un errore di secondo tipo una probabilità di continuare ad accettare l'ipotesi nulla nonostante h0 sia falsa quindi qui potremmo definirla è la probabilità di h0 cioè la probabilità di scegliere h0 se h0 è ritenuta falsa oppure è la probabilità di scegliere l'ipotesi nulla o di continuare a scegliere l'ipotesi nulla dato che vale h1 cioè dato di fatto che h1 è una cosa data è una cosa vera è una cosa che risulta dal test perché dal test risulta essere h1 la zona vincente e come vedete questo beta ricade nella regione di accettazione di h0 però è al di sotto della normale h1 ora ci dice ma come facciamo a calcolare beta e 1 meno beta allora in realtà dovremmo sempre rifarci ai dati standardizzati io qui ad esempio ho preso un'ipotesi nulla che è 20 un estremo che è 21 e l'altro che è 24 in realtà supponendo di ragionare sulla z ma lo stesso ragionamento vale praticamente anche per la td student noi dobbiamo distinguere cioè quando noi cominciamo a fare il test di ipotesi è come se ragionassimo che la media cade in 0 quale media quella di h0 cioè il 20 cadrebbe in 0 e per calcolare questo estremo ad esempio in ipotesi di un test monolaterale destro dovremmo trovare il valore in corrispondenza di z1 meno alfa e poi andare a calcolare questo estremo sulla base di questo riferimento quando ragioniamo invece sull'ipotesi alternativa ragioniamo sul 24 quindi vedete che qui ho tirato un'altra linea questa è la z associata all'ipotesi nulla mentre questa è l'asse delle z questi sono i valori standardizzati rispetto all'ipotesi nulla e questi sono i valori standardizzati rispetto all'ipotesi h1 alternativa quindi una specifica ipotesi alternativa quindi prendendo in riferimento la specifica ipotesi alternativa media uguale a 24 vuol dire che questa media che cade nello 0 e noi in pratica dovremo andare a calcolare il valore standardizzato sulla nuova normale dell'estremo calcolato al punto precedente quindi ad esempio in questa situazione quanto vale in termini standardizzati questo 22 rispetto all'ipotesi alternativa rispetto all'ipotesi nulla era z a livello di 1 meno alfa rispetto all'ipotesi di alternativa sarebbe z a livello di beta perché sarebbe quel valore di z che ha come area sinistra beta e quindi per poterlo calcolare dovremo fare la differenza tra 22 e il dato ipotizzato il nuovo dato ipotizzato mu1 cioè sulla h1 sulla nuova ipotesi sempre in termini di standard error ricordiamo che ad esempio lo standard error quando stiamo facendo un test di ipotesi su una media sarebbe il sigma su radice di n e quindi esprimiamo il nuovo valore z beta e poi ci diciamo ok dobbiamo calcolare l'area destra oppure l'area sinistra prendiamo le tavole oppure col programma elettronico di excel ad esempio qui dobbiamo calcolare l'area sinistra perché è l'area della regione di accettazione di h0 e quindi in pratica andremo poi a calcolare l'area che ci serve ovvero l'area beta bene cari amici io spero di riuscire a fare nella prossima lezione un esercizio un po' più chiarificatore a livello di numeri sull'errore di primo e secondo tipo ma se non riusciremo insomma lo aggiorneremo più avanti ci vediamo sempre nelle prossime puntate sempre col vostro Andrea al matematico ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti